Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gianlu Fire e oggi siamo su un altro episodio di Call of Duty Black Ops 3 Oggi siamo su una modalità un po' diversa, siamo sul gioco delle armi Come potete vedere pochi membri, siamo in 7, 8, vabbè, normalmente si può giocare fino a 8 giocatori ma poche persone giocano a questa modalità Vediamo che cosa riusciamo a fare Speriamo almeno di arrivare nei primi 3, anche se la vedo molto difficile Comunque noi ci proveremo 5 secondi all'inizio della partita Come potete vedere ho cambiato il logo in basso a sinistra, non è per niente bello ma Intanto è qualcosa Prima morte, siamo i primi a morire Con le pistolette Ah, ci rubano la kill qui E questi già iniziano con i mitra, noi siamo rimasti indietro Naturalmente qui subentra anche l'abilità Ah, ho provato a dargli un pugno Una pistolata in questo caso Proviamoci ancora Ah, non riusciamo a uccidere nessuno, siamo ancora fermi lì Dai, 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 ce la dobbiamo fare, almeno una kill, dai Almeno per iniziare a sbloccarci Con la pistoletta è sempre difficile Non starete, aspettiamo qualcuno Dai, questo qui però era nostro Come ha fatto a ucciderci? Ah, ce l'ha le doppie pistole Almeno questo, niente, niente Non riusciamo a fare neanche una kill, signori Stiamo facendo veramente schifo Dovrei iniziare una nuova serie E chiamarla Road to decenza Dai, qualcuno entrerà qui Dai, è impossibile Non riusciamo veramente a uccidere nessuno Sembra che lo facciamo apposta Niente Niente, per me non penso Riusciamo più a fare nessuna kill Visto che con la pistoletta Si fa difficile C'è qualcuno qui dietro Lo so, lo vedo dalla minimappa E l'ho visto Niente 0-9 Neanche una kill Ho anche il ping molto basso Alla fine questo qui è un tutti contro tutti Con cambio arma ogni Cavoli Quello potevamo ucciderlo Proviamo a inseguirlo Dai, neanche il muro mi salta Niente Non riusciamo a uccidere nessuno 0 kill 10 morti Sul nostro Adesso conto Dai, c'è qualcuno qui Che ci regala una kill Neanche Qui qualcuno ci deve stare Che l'ho visto Sì Finalmente Prima kill Almeno riusciamo a fare una kill Forse Ok Con questo si spara In questo modo Sì Vai Due kill di fila Almeno Forse ci siamo sbloccati Anche se Gli altri sono già nove Niente Sta andando malissimo Sinceramente non so neanche se caricarla una partita così Niente Da due parti ci arrivano addirittura Vai Finalmente Una kill Dai, dai, dai Possiamo ancora arrivare Almeno penultimi Proviamo a fare una rimonta Inizio anche a laggare Inizio anche a laggare male Perché non mi spara i colpi Quando li dico io Vai Aspettiamo Se loro Sono in un punto bruttissimo Qui qualcuno ci deve essere Cavoli Trappo lento a sparare Riuscire col cecchino Non mi riuscivo a prendere col cecchino Da vicino Difficile Prendere persone col cecchino qui Camperiamocela un attimo qui Ora arriverà qualcuno qui Vedo la minimappa No, si è fermato All'entrata C'eravamo davanti Non siamo riusciti a prenderlo Fin da così Questa partita abbiamo fatto Veramente schifo Siamo arrivati ultimi Abbiamo avuto un inizio Remente difficile Su questa serie Ma ci riproveremo Quindi Io Non ho altro da dirvi Che da Qui è tutto Da Gianlufair è tutto Ci vediamo con un prossimo video Probabilmente inizierò Questa serie Road to primi in corsa alle armi O gioco delle armi Scusate In gioco delle armi Vediamo se Prima o poi ci riusciremo ad arrivare primi Quindi da Gianlufair è tutto Ci vediamo con un prossimo video